amici ben ritrovati per una nuova avventura con sergio e papà grande sai che cosa abbiamo oggi le macchine della polizia militari e carabinieri carabinieri bellissime ragazzi allora guardate qua quando ne abbiamo allora procediamo anche questo guardate che cosa a questa cosa che cos'è la forestale è un mezzo dell'emergenza forestale raga guardate bellissimo wow stupendo proprio guardate sta anche papà qua ciao ragazzi allora ragazzi allora guardate un attimo quante macchine che teniamo qua praticamente sono tantissime sono tantissime le abbiamo messe tutte quante qua con sergio le abbiamo messe tutte quante qua con sergio allora sergio praticamente le vogliamo un attimo far vedere per quanto riguarda i nostri amici per quanto riguarda i nostri amici sì allora prendiamo un attimo questa qua va guardate qua l'alfa romeo giulia arriva anche questa questa chi è papà la stelvio la stelvio la stelvio ce l'abbiamo sì abbiamo pure la stelvio quella la gigante vi ricordate raga vi ricordate i precedenti video poi c'è la giulia poi abbiamo la giulietta la giulietta della poliz fantastica fantastica poi c'è la ferrari la lamborghini sergio praticamente si è dimenticata adesso qualche macchinina ti sei dimenticato va vai da un tratto di tempo che non facciamo video allora poliz 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 poi c'è la dacia duster ah la dacia duster te la ricordi bellissima quella che c'è giù paolo bellissima bellissima che c'è giù paolo eh sì 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 però si è rotta questa qua è una delle le mie macchine preferite anche la mia land rover dei carabinieri guardatela ragazzi c'è anche un gancio di traino chi sa che è trasporto abbiamo le due sirene ancora integre perché qualche macchina ha perso qualche sirena è vero sei è vero sei sì sì e ora dopo ci arriviamo raga ve la ricordate questa qua questa è l'alfa romeo che macchina è l'alfa romeo giulia no ti sbagli ti sbagli ci assomiglia ci assomiglia infatti questa qua è un modello precedente dell'alfa romeo giulia papà questo si chiama l'alfa romeo 156 l'alfa romeo 156 non te la ricordi perché tu ancora dovevi nascere adesso non la fanno più si vede qualche esemplare in giro però non le fanno più non le fanno più bellissima comunque eh molto bella dei carabinieri voglio questa qui questa qui questa qua che macchina è scusa ma che ne so allora raga questa qua è una macchina della polisse però che non siamo riusciti ad individuare guardate è un modello strano pazzesco è una chip però è indistruttibile poi l'arreno aspetta 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 guardatela qua è un modello molto strano guardate è un modello molto strano vabbè mettiamola qua poi papà che cosa c'hai? la rene raga sta arrivando qua praticamente guardate che sta arrivando no vabbè abbiamo la jeep renegade vabbè questa qua è famosissima è ancora attuale la jeep renegade è tutta nuova solo che c'è stato un piccolo problema praticamente che si è rotta la praticamente la ruota la ruota oh papà ma guarda ce ne abbiamo un'altra di jeep renegade Sergio oggi ne abbiamo un'altra di jeep renegade questa qua è dei carabinieri però stavolta l'abbiamo comprata l'abbiamo comprata qualche giorno infatti guardate com'è nuova è tutta fiammante è pulitissima nuovissima un tetto bianco adesso arriva la 500 raga adesso la 500 sembra dei carabinieri le sirene che fine hanno fatto? le sirene se ne sono rotte abbiamo rotte papà praticamente buah pure il fanalino pure il fanalino si è rotto buah vabbè pazienza poi papà abbiamo questa macchina del mini aspetta completiamo un attimo i carabinieri abbiamo sempre l'altra Giulietta raga dei carabinieri bellissima anche questa Giulietta mitica Giulietta dei carabinieri vabbè si è rotto la luce davanti si sono rotte i lampeggianti sul tetto vabbè pazienza pazienza poi papà che cosa abbiamo? abbiamo questa qui oh raga guardate che sta arrivando guardate che sta arrivando il mitico carro attrezzi che trasporta la macchina dei carabinieri che praticamente è tutta rotta è rottissima ha perso pure i copponi le sirene i fari ha fatto qualche incidente secondo me ha fatto qualche inseguimento vero? vero? me lo comprendi? ci hanno tirato i missili si ci hanno tirato i missili madonna che speronata sicuramente hanno sparata no no c'è stata una speronata sicuramente poi poi che cosa abbiamo ancora papà? abbiamo questa qui guardate che sta arrivando guardate qua che sta arrivando guardate che macchina raga che sta arrivando questa è una macchina della polizia americana dovrebbe essere la riproduzione della Jeep e Chiroky Chiroky Jeep guardate bellissima 0-2 voglia questa 500 parliamo la mitica panda sempre dei carabinieri pure questa senza le sirene ovviamente si sono rotte un po' incidentata qualche inseguimento che è finito male ok poi che c'ha Sergio che c'ha? che c'abbiamo? poliz la polizia polizia la 500 sempre senza sirene sono persa le sirene però è simpatica però è bellissima per la 500 se ne vedono poche però in giro ti vorrei dire qualcosa in questa Giulia quando è una Giulia normale? è la 156 ma eh ma si fa così si apre proprio si apre proprio guardate si apre ma si apre qua ma perché? forse per quando fa qualche inseguimento lancerà qualcosa perché l'ho rotta io ah l'hai rotta tu? ah complimenti complimenti ma io non la tolgo no no non la toglie non la toglie lasciala stare perché è bellissima lasciala stare qua perché è bellissima ma è che poi si può girare eh vabbè poi papà passiamo ai mezzi militari raga allora abbiamo questi due jeep guardatela qua la jeep wheelie jeep wheelie americana americana lascia qua lascia qua lascia qua non ti preoccupare abbiamo un'altra seconda jeep guardatela come è simpatica queste due jeep raga sono simpaticissime guardate le metto qua le metto qua le metto qua mettele là mettele là sono simpaticissime sono simpaticissime papà poi che cosa abbiamo un'altra jeep sempre americana e probabilmente questa qua pure questa è tutta incidentata raga guardatela qua poi per completare abbiamo il carro armato questo carro armato è indistruttibile ce l'abbiamo da un sacco di tempo non si è rotto per niente è arrivato un missile sul carro armato no ma chi l'ha lanciato chi l'ha lanciato è arrivato alla Russia o all'Ucraina madonna ma chi l'ha lanciato questo missile no e questa è la fine che hanno fatto fare il povero carro armato mamma mia e qua invece questa che macchina è la jeep militare e come si chiama questa jeep la jeep la jeep di Andy la jeep di Andy e l'hammer raga lì l'hammer l'armi wow bellissimo questo è nuovissimo infatti ce l'abbiamo da pochissimo tempo infatti è nuovo guardatela guardate neanche un graffio arrivano sempre i missili stanno arrivando ma chi è che l'ha lanciato i missili Sergio Sergio l'andia Sergio la rubi la rubi la rubi fammi vedere gli ultimi due mezzi speciali che abbiamo qua sotto il lancia missili il lancia razzi eccolo qua raga il lancia razzi colpito e affondato e infine abbiamo un altro camion semabilitare vai colpito e affondato colpito e affondato madonna papà e poi il razzo raga eccole qua praticamente qua stanno tutte quante le macchine questi siamo noi e poi abbiamo il razzo allora raga se vi è piaciuto il video se vi è piaciuto il video pollice in su pollice in su e la cosa importante iscrivetevi al canale così non vi perdete nessuna avventura di Sergio e papà che so che so io ok ciao a tutti ciao ciao ciao